Luca, al di là del coro che succede alla prestazione di oggi, forse anche quella di Foncio che ha usato al discorso, l'inserimento dal quale davanti a te come sta dando i suoi dubbi? Sì, sono contento di questa prima esperienza tra professionisti, ringrazio il mister per la fiducia che mi ha dato, è una partita importante, si appoggia e si acquista che era uno scontro diretto, diciamo uno scontro salvezza, e sì ci ho messo un po' comunque ad integrarmi, diciamo, no per colpa del gruppo, diciamo per una questione di ritmi, che diciamo la Lega Pro è più intensa rispetto a un campionato prima, quindi diciamo ci ho messo un po', però sono contento. Tu sei uno di quelli che figuravano stati gli infortuali, come dicevo, che hai metto con due problemi, prima di trovare lo spazio per continuare a te? Sì, ho avuto un problema all'eretto del femmero, sono stato fuori in due mesi, a un mese e mezzo, due mesi, è stata una bella batosta, diciamo, però mi sono ripreso, diciamo, bene. La vittoria che cosa significa questo, diciamo, la vittoria? No, può essere, diciamo, una svolta questa vittoria, perché appunto era uno scontro salvezza e noi, l'obiettivo nostro è raggiungere la salvezza prima possibile, come diceva Antonio prima, e dobbiamo proseguire su questa strada. Infatti, due buone partite avvolge oggi da mezz'ata, come ti trovi in questo ruolo? Perché comunque, anche a Madeira, altre volte, te l'ho visto sempre davanti alla difesa, quindi non so se è una cosa inedita, se è un ruolo per te nuovo, oppure nasci con mezz'ata? In passato mi è capitato di fare l'interno, io sapevo di poterlo fare, però comunque davanti c'è Devi, c'è Simone, quelli, comunque sono ottimi giocatori e ho saputo, diciamo, sfruttare l'opportunità che mi è stata data, anche dovuta all'essenza, diciamo.